Le scienze umane ci aiutano a conoscere il mondo che ci circonda, ma soprattutto a conoscere e aiutare noi stessi. Come dice Maslow, un importante psicologo, se l'unica cosa che possediamo è un martello, dobbiamo trattare ogni problema come se fosse un chiodo. Le scienze umane che studierete in questa scuola vi aiuteranno a possedere sempre più attrezzi, come il martello, per affrontare quindi i problemi di ogni giorno. Sappiamo bene che questi però non sempre si riescono ad affrontare da soli, meno male che c'è l'amicizia allora. Su questo uno psicologo russo di Nomi Vygotsky diceva, attraverso gli altri diventiamo noi stessi. Lui consigliava di circondarsi di persone che ci fanno stare bene, che ci siano sempre accanto per non creare attorno a noi un ambiente tossico per la nostra persona. Non vergognarti di volere che ti sia insegnato quello che non sai. Sapere qualcosa è un merito, è invece una colpa non voler imparare nulla. Hi everyone, welcome to Human Science High School. We enjoy studying English together, London, Dublin, New York, Sydney. Let's start our journey.